L'obiettivo dichiarato era di dare un'accelerata decisa alla campagna vaccinale, traguardo che l'asla di Salerno ha centrato in pieno. Nella due giorni di Open Day organizzata in tutta la provincia, sono stati 20.000 cittadini che hanno ricevuto il vaccino. Un grande successo secondo l'azienda, che però è coinciso con qualche disagio di troppo. A Salerno, nel quartiere di Materno, ne ha fatto le spese un vigilantes che ha avvertito un malore. Una crisi di nervi? Sì, sicuramente dovuta a stress da lavoro. Siamo stati fortunati ad avere qui presente un cardiologo, il quale subito è intervenuto e ha scartato subito che trattavasi eventualmente di infarto. Un'organizzazione un po' da rivedere probabilmente. Certo che è da ritoccare, perché se ieri ci hanno fatto mettere in lista, se ci davano direttamente il numero, non c'era assembramento e non c'era resta. Ci dicevano più o meno l'orario, ci sarei stata pure per le otto e mezza, sarei stata da aspettare qua. Non ha da attendere un poveraccio che stava là davanti a chiamare le persone e che poi ha assorbito tutte le lamentere. Mi meraviglio che ci sia poco organizzazione per i mezzi che tengono i politici. Nel Salernitano intanto la curva dei contagi sta facendo registrare una graduale flessione su 2320 tamponi analizzati. 175 sono risultati positivi, purtroppo però continuano i decessi nelle ultime ore. Hanno perso la vita due cittadini di Pagani e uno di Sapri. Resta alta la guardia sul fronte controlli. Il weekend festivo ha spinto tante persone a riversarsi in strada. A Salerno un 35enne sudamericano è stato denunciato perché pretendeva al colice oltre l'orario di chiusura di un bar.